Come è nato il farmaco? Benvenuti sul canale di Italia Nutrizione. Io sono il dottor Ubaldo Gallo, sono un chimico e volevo raccontarvi in modo informale, divertente, un po' della storia di come sono nati i farmaci. Forse fino ai tempi antichi, gli uomini, a partire da Ippocrate che è stato il padre della medicina moderna, che diceva però che noi siamo quello che mangiamo, però fin dai tempi antichissimi, dai tempi degli Egizi, quindi migliaia di anni prima di Cristo, era importante cercare di capire, quando c'erano delle problematiche di salute, di come potersi curare. Al tempo l'unico modo che c'era per curarsi c'erano effetti un po' di stregoneria, ma normalmente si utilizzavano soprattutto derivati infusi, derivati delle piante, delle erbe, le bacche, le radici. Se andava alla ricerca di queste sostanze, in qualche caso si utilizzavano anche degli animali, dei molluschi, delle rane, degli insetti, per appunto cercare di generare delle sostanze che in qualche modo aiutassero il corpo a reagire agli eventi avversi. Ma ci sono delle storie molto interessanti per quello che riguarda invece la nascita del farmaco in ambito moderno, nell'era moderna. Uno dei farmaci più importanti dell'era moderna è l'aspirina, che tutti conoscono, ormai l'abbiamo per scontata. E c'è una storia anedotica su come nasce l'aspirina e nasce esattamente in Bayer. La Bayer era già da tempo, diciamo già alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, un'azienda chimica importante e aveva dei chimici, dei laboratori, dei medici, dei farmacisti che lavoravano all'interno di questa azienda e facevano ricerca. Uno di questi ricercatori si narra che soffrisse di mal di testa e l'unico posto in cui riusciva a curarsi o star meglio da questo mal di testa era in un piccolo parco che c'era all'interno dello stabilimento. C'era un parco con dei salici e l'unico posto in cui lui stava meglio quando aveva gli attacchi di mal di testa era quando si sedeva in queste panche all'interno, in mezzo, immerso in questi salici. Per cui a un certo punto cominciò a farsi delle domande come mai lui si sentiva meglio quando si sedeva in queste panche. Se avete presente, se avete l'opportunità di osservare un salice, noterete che sulla corteccia del salice si forma una polverina bianca. Questa polverina bianca che nel momento in cui si alza il vento si nebulizza e va un po' in sospensione aerea che non è nient'altro che acido salicilico. Per cui questo signore facendosi appunto queste domande cominciò a pensare che magari questa polverina potesse essere utile. E dall'acido salicilico con un processo molto semplice di acetilazione si arriva all'acido acetil salicilico e l'acido acetil salicilico non è nient'altro che l'aspirina. E questo è un esempio, penso, abbastanza inclatante di capire da dove si può arrivare poi a elaborare un farmaco. Un altro esempio molto interessante è quello di un'erba che si chiama Digitalis Lanata che viene utilizzata per produrre appunto la digitale. La digitale è un farmaco che serve a livello cardiaco per controllare i battiti cardiaci e deriva appunto da questa pianta. Un'altra pianta molto utilizzata per fare delle sostanze a livello di sistema nervoso eliperico o l'erba di San Giovanni mi sembra si chiami. Un altro esempio che invece dalle piante deriva dall'osservazione del mondo animale sono una famiglia di antipertensivi molto importanti che sono gli acci inibitori e questo nasce dal veleno di un serpente perché si era resi conto che quando le persone venivano morse da questo serpente morivano o avevano dei decadimenti pressori molto molto significativi da cui si è pensato che lavorando il veleno di questo serpente si potesse arrivare a delle sostanze utili per il controllo della pressione tant'è vero che nasce il capto perché è il capostipite di una famiglia come dicevo prima importantissima è quella degli acci inibitori che ha prodotto più di 20-25 molecole. Dov'è il passaggio? Il passaggio per l'elaborazione poi di un farmaco parte appunto da queste osservazioni di queste sostanze che noi troviamo in natura e invece che andare a elaborare la parte esclusiva delle piante quindi quella che poi produce, produrrà e sta producendo un'altra grande famiglia di prodotti che sono i fitoterapici derivati diretti delle piante a livello chimico è estremamente interessante produrre in laboratorio la molecola pura che noi abbiamo identificato abbiamo estratto ed elaborato dalla pianta o dall'animale. Questi processi farmaceutici che sono appunto tipici dell'industria farmaceutica permettono altissimi livelli di purificazione ad arrivare esattamente a quel principio attivo solo ed esclusivamente quel principio attivo che è quello che ci interessa. Oggi i costi oggi noi parlando di farmaci sappiamo che la maggior parte dei farmaci sono cosiddetti generici perché ormai la ricerca farmaceutica si sta spingendo sempre più verso farmaci importanti farmaci biologici farmaci ad altissimo costo che servono per patologie specifiche e tutti gli altri farmaci quelli vorrei dire di uso comune invece sono diventati farmaci generici e anche lì questo vi fa capire il fatto di poterli produrre a livello di laboratorio farmaceutico come ha abbattuto significativamente i costi che invece erano costi estremamente elevati quando si è partiti allora al di là di tutti questi aneddoti penso che sia interessante capire che comunque dietro alla scoperta di una molecola farmaceutica di un farmaco c'è sempre un'osservazione di quello che avviene è avvenuto e abbiamo visualizzato in natura ecco quindi questa era una storia molto semplice molto breve per darvi appunto a questi piccoli spunti di riflessione vi ringrazio se questo vi è piaciuto è stato per voi interessante vi invito a iscrivervi al nostro canale e a seguirci anche nei prossimi video buona giornata a tutti vi ringrazio Grazie a tutti